con questo pezzo, un po' strano, un po' particolare, un po' come lo siamo noi, un po' come ci sentiamo noi direi che è un pezzo da mojito, spiaggia, mojito, proprio quei mojiti fatti bene ah così proprio, in rio al mare, DJ Stay, dove sei? DJ Stay, wow è la tua schiena quella che vedo, da lontano e questi gabbiani che volteggiano, wow, vabbè adesso Stay, abbiamo un programma da mandare avanti Stefano, DJ Stay, abbiamo un programma da mandare avanti ciao Joe, ciao, la fai qua? io sono venuto a chiamarti perché avremo un programma da mandare avanti programma? che programma? si, che odio fisso, io lo so che tu quando senti certe canzoni e arrivi in questi paradisi tropicali ti perdi nei meandri dei tuoi pensieri ascolta, io sono qua, sono qua, col mio mojito si, esatto, sto bevendo, sto guardando l'orizzonte si, e stai guardando quel gabbiano che ha preso anche un pesce si, secondo me stai guardando anche le chiappe di coda che sta passando comunque è giusto così per essere un pochettino più realistico è caldo il sole allora facciamo così, chiudiamo un attimo gli occhi ma cosa che vuoi? scusa, cosa fai qua? no, non eri a Milano tu? si, però sono arrivato da Milano di corsa, infatti io avevo anche il fiatone per prenderti per un orecchio e portarti in studio perché dobbiamo andare avanti tu un chiedo fisso ma stai scherzando? no, non stavo scherzando, sono sei ma scusa, hanno leggiato qua l'ombrellone e vabbè dai, ascolta, ritorni dopo, facciamo il chiedo fisso e poi torni lì aspetta, vado a fare il bagno un attimino no, vai a farti la doccia magari, anziché il bagno ascolta, vieni qua, vieni un attimo si vieni qua un attimo, girati, mettiti così girati, girati di schiena ok, mettiti, mettiti un attimo a 90 mettiti giù un attimo a 90 no, guarda, preferisco stare no, 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 preferisco guardarti da qua e sentirla da qua la sigla mettiti a 90 no, assolutamente preferisco sentire